Parla anche Quilano, l'imminente sperimentazione sull'uomo del primo vaccino Covid-19 a mRNA sviluppato completamente in Italia, destinato ad essere efficace sulle varianti. Protagonista di questo lavoro è una start-up, Fondo Ricerca Medica, specializzata nella ricerca biotecnologica e negli algoritmi di predizione di variazioni genomiche, che ha sviluppato e testato con buoni risultati, sperimentazioni precliniche e regolatorie sugli animali, un innovativo vaccino per il Covid-19. La start-up ha due sedi, una a Roma nella capitale e l'altra all'Aquila sulla statale 17. Alcuni ricercatori sono legati anche al Dante Labs, l'innovativo laboratorio di ricerca aquilana, che è stato un supporto essenziale durante la pandemia. Si tratta del primo siero e della prima piattaforma di mRNA italiana, che arriva in un momento in cui i contagi sono in rialzo a causa delle varianti Omicron 4 e 5. Il vaccino si basa sulla tecnologia dell'RNA messaggero, che ha recentemente dimostrato successo nel controllare la pandemia responsabile del Covid-19. L'aspetto innovativo è che l'azienda, oltre alla riproduzione della tecnologia, è riuscita ad associare alla produzione del vaccino un approccio bioinformatico, che permette una predizione dell'evoluzione del virus. La ricerca era partita per creare innovativi farmaci contro i tumori ed è stata poi virata sul Covid-19. La sperimentazione ha pure mostrato un buon profilo di sicurezza. L'algoritmo è stato applicato per la prima volta a dicembre 2020 ed ha permesso di selezionare il vaccino ad mRNA, che nei prossimi mesi sarà testato sull'uomo. Inutile dire che si tratta di una ricerca molto importante, perché in autunno la situazione dei contagi potrà peggiorare proprio a causa delle varianti, che sono ancora più contagiose. Il dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive all'ospedale dell'Aquila, in una lunga intervista al centro ha ribadito proprio questo. Solo un nuovo vaccino potrà fermare le varianti, ma è comunque necessaria assolutamente, e ora, la quarta dose per anziani e soggetti fragili. Il vaccino quindi va aggiornato e va tarato sulle nuove varianti. Omicron 5 è una forma più aggressiva, ad esempio, ed è fonte di preoccupazione. Per ora la situazione è gestibile, perché la maggior parte dei pazienti non ha bisogno di ospedalizzazione, ma serve continuare a prendere precauzioni e a studiare vaccini.